Ciao ragazzi, oggi io e Gianmi partiremo per la nostra avventura. Let's go! Oggi andremo dal divano... Fa vedere Gianmi? Dal divano... Dal divano al frigo. Abbiamo già pagato il traghetto per andare. Ci manca solo da prenderlo. Andiamo. Ci aspettano ora 12 ore di macchina per raggiungere il traghetto. Sì! Let's go! Let's go, let's go. Un attimo qua fuori perché c'è davvero un'ottima vista per fare una foto. Ultronomente, ultronomente campeggeremo qua, a Dekoa. Sì, tanto è domani il traghetto. Sì, campeggeremo qua alla notte, molto probabilmente ad esplorare, a fare... Ma è arrivato il momento di mangiare. Sì, cosa mangiamo? Cosa abbiamo portato? Roba naturale che cresce nella terra. Gianmi, vai a preparare già la tavola. Allora, io vi devo qualcosa da mangiare. Ci mangeremo delle barrette proteiche. Ci sta. Così siamo pieni, andiamo per il mio presto e domani partiamo per andare a prendere il traghetto. Grande! Siamo arrivati nella camera di hotel. Guardiamo com'è. Gianmi! Gianmi! Vieni, hai diventato di far vedere il cesso! Il cesso, il cesso! Il cesso! Presto verrà sfondato! Mi lascio caccare. Allora, qua vabbè c'è roba antica. Gianmi, fin... Ve la sfonda il cesso! Poi qua un attaccafanni, una televisione, un letto e un armadio. Niccolò, una chiave! Gianmi! Quella è a Hondurra? Forse è la chiave dell'armadio. No, già. Guarda Gianmi, c'è ancora una bella vista fuori. C'è ancora una bella vista fuori. Non è inquietante. Elepons. Lui è Elepons. Va bene. Andiamo a dormire, ci vediamo domattina. Sì, andiamo a dormire, io direi di andare a dormire con la nostra fantastica lampada. Ragazzi, ci vediamo domattina. A domattina, signori! Andiamo a dormire. Con Gianmi e Niccolò Balini. Grazie. Che notate, il materasso faceva veramente cacare. Vado un attimo in bagno, Gianmi, a sciacquarmi dentro la faccia. No, aspetta. Ma? No, devo sfondare il cesso di nuovo. Gianmi! Devo risfondare il cesso. Ma il cesso è rotto. Eh, lo so, l'ho sfondato. So, Gianmi. Vabbè, vado fuori. Caco nel lavandino lo sfondo. Non c'è... Gianmi. Sfondo è il lavandino di cacate. Io vado a... Io sono un cacone! Andiamo, Gianmi, lasciamo la stanza da te. Che sono le 5 e abbiamo il preghetto tra un'ora. Hai ragione, hai ragione, andiamo, andiamo. Razzola, razzola, razzola. Hai preso qualche souvenir? Sì, ho preso questo bellissimo appellino. Guarda che bello. Benissimo, Gianmi. Ho preso anche, ho preso anche una sciaccia di pari. Partiti! Mannaggia! Ragazzi, finalmente il nostro viaggio si sta per concludere. È stato veramente emozionante. Penso uno dei viaggi più belli del 2020-2021. Sì, Gianmi! Gianmi, siamo arrivati al frigo, vieni! Pensa da frega, un po' di... L'obiettivo era arrivare da questo divano al frigo. Eccoci, è arrivato. Guardiamo da c'è a FITUTURU. La pizza di Napoletano! Orco di Dio! Miele. Una salsa di soio. Ragazzi, un altro viaggio si è concluso. Io e Gianmi siamo veramente rimasti affascinati. Posa un altro? Su, venire. Basta, Gianmi. Adesso posso sfondare i cessi. Siamo rimasti affascinati da questo viaggio. E siamo veramente molto santi. Confermo. E poi corriamo la tappa dal frigo al divano. Sì. E' eccezionale. Sì. Mi ha detto questo, ragazzi, ci vediamo. Il cesso della stanza era speziale. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Non molto resistente. Perché mi è bastato uno stronzo per sfondarlo. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi!